quando stamperete questi negativi vedrete affiorare tutte noi e i luoghi che avete amato gli amici sono come un impermeabile che ti ripara quando piove come gli stivali che ti tengono asciutta o il maglione che ti mantiene al caldo e da cui non vorresti mai separati se sai di averli con te puoi andare ovunque e niente potrà farti paura perché gli amici portano il sole in un giorno di pioggia e noi resteremo vostri amici Ezio e Gloria grazie